Quando parli o senti parlare dell'Australia, il vino probabilmente non fa parte degli argomenti principali che ti vengono in mente. Eppure, proprio qui vengono prodotte delle etichette pregiate in grado di far concorrenza a quelle di nazioni storicamente più abituate alla creazione e all'esportazione di vini di qualità. Il successo è dovuto al particolare clima, uniforme, con le giuste precipitazioni e un calore adatto alla corretta maturazione delle uve, soprattutto per il perfetto bilanciamento fra acidità e dolcezza. Questo mercato ha un trend in forte crescita, soprattutto perché l'export è aumentato notevolmente negli ultimi anni verso Stati Uniti e i paesi asiatici, la Cina ovviamente in testa. Le prime piante di vite furono introdotte in Australia dai colonizzatori europei, che si stabilirono su questi territori ancora poco conosciuti fra il 1700 e il 1800. I primi veri risultati però si ebbero solo all'inizio del 1900. È quindi una pratica relativamente giovane, confrontata con la storia millenaria di Grecia, Francia, Italia e Spagna. Nonostante ciò, gli agricoltori hanno investito moltissimo in questa attività, raggiungendo in poco tempo risultati veramente incredibili. C'è poi da aggiungere che, mentre in Europa nell'Ottocento la filossera distruggeva la quasi totalità dei vigneti, il sud dell'Australia veniva risparmiato da questo flagello. Da qui è partita la fortuna dei viticoltori australiani e oggi tutto questo vasto territorio ospita più di 2000 produttori di vino, distribuiti in ogni stato. Oggi l'Australia è il quarto produttore mondiale di vino, con 16.000 ettari coltivati. Nonostante fino agli anni 60 questi vini non avevano una particolare qualità, erano molto dolci, spesso troppo alcolici e il loro uso era limitato alla realizzazione di vini fortificati. La vera rivoluzione fu introdotta dalle nuove uve, soprattutto del Syrah, che permise di realizzare un vero e proprio salto di qualità, conquistando in soli 20 anni i mercati mondiali. Le principali zone di produzione vinicola dell'Australia sono la Barossa Valley, che è fra le località più rinomate e conosciute a livello mondiale. Si trova a circa 130 km da Adelaide e comprende un'area molto estesa della quale fanno parte anche l'Eden Valley e la Claire Valley. Qui il periodo della vendemmia è celebrato e festeggiato con particolari eventi e festival che attirano turisti e stimatori da ogni parte. Qui l'uva reggina è a bacca bianca, come lo Chardonnay o il Sémillon. Nonostante la cantina locale più famosa, la Penfolds, fondata nel 1845, produce vini rossi utilizzando soprattutto Shiraz australiano. Altri vitigni sono il Mataro, l'Hermitage Blanc e il Riesling. Nella zona costiera, vicino a Adelaide, il clima più fresco e i venti che provengono dall'oceano favoriscono la crescita di vitigni tipo il Pinot Nero e lo Chardonnay, vinificati spesso in versione spumante, e anche il Sauvignon e il Grenache. L'area di Kukawarra è caratterizzata da un clima più temperato e da un terroir perfetto per la produzione di Chardonnay, Shiraz, Riesling e Cabernet Sauvignon. Nella regione del New South Wales, a circa 200 km a nord di Sydney, l'area vitivinicola più importante è l'Hunter Valley, dove i vini prodotti sono conosciuti principalmente per la loro estrema capacità di invecchiamento. Non è raro, infatti, di trovare dei vini in grado di invecchiare anche 30 anni. Le uve sono l'Hermitage Blanc, il Pinot Nero e il Traminer. Se ti è venuta la curiosità di assaggiare uno di questi vini, le principali etichette da cercare sugli scaffali delle migliori neoteche provengono dalla cantina Penfolds. Fra questi vi sono il BIN 389 Cabernet Shiraz, il BIN 707 Cabernet Sauvignon, il Clarendon Hills Shiraz o il St. Henry Shiraz, oppure il Glaser Amon Rashiraz, solo per citare le cantine più rinomate.